Vesti il lavoro! A Pesaro, dal 1992, è rivenditore di abbigliamento e calzature professionali per ogni genere di attività. Inoltre, con il ricamo o la stampa, personalizziamo i vostri capi rendendoli unici a prezzi vantaggiosi. Sabato 26 marzo alle 17, festeggia con noi i nostri primi 30 anni di attività. E per dirvi grazie, vi daremo la nuova Fidelity Card e tutto sarà scontato del 30%. Ti aspettiamo! Grazie!